Ho visitato alcuni uffici, stavano distribuendo le tessere telefoniche, ho visitato l'appartamento, ho visto l'area sportiva, ho visto la scuola, ho visto l'area computer, ho visto tante cose che molti italiani probabilmente non si possono permettere. In Sicilia ci sono più gente cieca che ci guadagna, ma chi se ne frega, io devo bloccare l'immigrazione clandestina nell'interesse degli immigrati e degli italiani, la Sicilia deve crescere, qua ci sono presunti profughi, la stragrande maggioranza di questa gente non sarà profuga, quindi noi stiamo pagando colazione, pranzo e cena a gente che è immigrata clandestina.